I nostri brand parlano da soli, prodotti eccezionali, che si susseguono, know-how di ogni azienda, Oka che è stato veramente un ottimo partner. Secondo me oggi i Saucony come Brooks sono veramente all'avanguardia. Le nuove Saucony, questa è in carbonio addirittura, la endorphin in carbonio da trail, qualcosa da provare. Perché non abbiamo tantissime scarpe? Perché io prendo il top, due, tre modelli di alcune scarpe e le testo tutte. Quindi vi dirò vita, morte, miracoli, soprattutto le risposte che nelle macchine, che con le nostre macchine possiamo anche registrare. Quindi vedere le scarpe di questi brand così importanti, non solo per la parte atletica, ma anche per la quotidianità, vi spiegheremo qual è la migliore scarpa per camminare, qual è la migliore scarpa per correre, la più prestazionale e la più giusta e logica da indossare tutti i giorni.